Eccoci, eccoci con The Golden Lake, Purtpannoy, qui a Roma on stage per dare un esempio della Muay Thai ai ragazzi che sono venuti qui al centro Giulio Nessi, alla Quacetosa. Grazie per venire, Master. Grazie, grazie, grazie. Sono felice di venire a casa. È stato molto tempo che sei qui, 21 anni. Penso che più di 21 anni. È stato molto tempo. È stato molto tempo. Ma loro sempre ricordano te fresco in loro mente. Sempre pensano di Purtpannoy come uno dei migliori combattatori del mondo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Mi anche. Mi piace di trainare. Mi piace di trainare con i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi. Sono felice di trainare. Ti stai attraversando, ti stai attraversando, ti stai attraversando, sempre stai attraversando. Da qui, da Italia, dove ti chiedi la prossima volta? La prossima volta, Davide, è venuto a Thailan. La combattimento è molto più di giurale. I dagli giorni si tratta di combattimento a Thailan. Quindi mi sta dicendo che a luglio ci saranno dei combattimenti in Thailandia dove Davide Carlotte porterà anche dei ragazzi e lui sarà presente.